Ciao a tutti ragazzi mi chiamo Riccardo e benvenuti sul mio canale Allora, oggi giochiamo sempre a Fortnite Ma voi starete chiedendo Perché? Perché proprio dove sta lo schermo principale di Fortnite Allora, vi devo dare un avviso Tra un'ora vi do anche un avviso e poi giochiamo Allora, praticamente il mio amico Luca Quello che vi ho mostrato un anno fa Ritornerà tra un'ora E voleva fare un video con me E quando ritornava a casa mi chiamava Quindi se sentite che squilla il mio telefono Cioè non è colpa mia Non è colpa di nessuno che voleva fare il video con me Quindi non è colpa di nessuno Allora PvP a 100 giocatori Cioè pantalla reale È perfettissimo Allora Ragazzi Invitiamo La mia amica Barra nemica Al gruppo Allora Tauciano creativa Uniamoci Allora Allora Ok mi sono ando Dai ti prego Nicola Unisci C'è un mio strau Sentire un po' di cose Perché stiamo Montando una staccionata Per Cioè per Per montare la piscina E la doccia Va bene Va bene ragazzi Va bene 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 Eh sì Ok Va bene Ah ok Allora Ciao Saluta i fan Ciao Eh dai Vogliamo fare uno Vino map Che facciamo vedere Come combattiamo Perché Ti devo dire la verità Sono migliorato a buildare Benissimo Ieri mi sono sfidato Con Con il mio amico Buildavo come a che Ok Adesso è una Genes Ho messo uno Vino map Perché Mi piaceva E quindi Ok Quella là In cui si può anche buildare No la sniper Non scopo Ma Vabbè Chi gioca a fortnite Sa Di che cosa Sto No Non è una live È un video Perché Non riesco a fare le live Quindi Niente Siamo Intendiamo Va bene Qualunque cosa Anche il rampino Ok Io mi prendo sicuramente Lo scar La mitraglietta Compatta No Io direi Di prendere Di prendere Un cecchino Ma Dove stanno i cecchini Ah Sta legando No Ma Dove stanno i cecchini Eh Boh Oh Interessante Nicole Stati zitta Ti prego Nicole Giochiamo meglio Io e lui Perché almeno Non li giudiamo Noi È verissimo Guarda come build Questa cosa L'ho fatta in 5 secondi Hai visto E io gioco Solo da un mese Tieni conto questo Ti faccio un labirinto Dopo Ehm Vabbè 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 Tanto Anche tu sei pro Quindi Che succede Che succede Vabbè 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 Qua dove Eh Ok Oh È la miseria Quanto ti ho fatto Ma Facciamo Uno di uno Build Fight No 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 Pura fight Oh Eh sì Pura fight Sì Build Fight Eh sì Perché si fa Secondo te perché ho messo uno io no map Se ho metto la big map Nicole ti prego stai zitta Che sto facendo pure un video Ah no è vero aspetta Time out mi sono scordato di prendere il rampino È vero È verissimo Dove era Intanto io prendo questo Anche questo Il rampino dove sta Non si sa Ok sto dall'altra parte Ho capito Intanto che Salvatore sta facendo una torre E comunque ho deciso Sarai il mio nuovo amico Ok Allora fammi andare a prendere il rampino Però buildando perché non voglio che mi fai un troll E perfetto Vabbè volevo esserne sicuro Allora Ecco qua Io direi di usare il rampino per me perché io Non ci so fare per nulla con le granate a impulsi Anche nelle dettran Ci vogliono 30 anni Che succede? Eh che succede? Che succede? Arrivo Oh no 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 Oh no 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 Oh no 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 Eh guardalo Che succede? Che succede? Che succede? Eh Volè Mi ha abilitato Volè Oh Tengo 35 di shield Aiuto È la miseria oh Sto giocando con un pro Oh madonna Oh madonna santa Grazie Oh madonna guarda com'è Vilda Oddio 21 di vita 21 di vita ti giuro Tengo 21 di vita I miei fanno avranno visto sicuro Ma mi sto facendo i shield Oh no è vero Lui si è del rampino No ancora No no mi sono curato Tranquillo Che succede però? Che succede? Oh 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 E la miseria bravo Tu quanti kill hai? Una Io due Vedi Per quando dico che sono migliorato Questo intendo Allora Allora scusate Ma era mia madre che è entrata con l'aspirapolvere Ovviamente mi deve rompere pure Quando faccio il video Yeah Mi ha sperato Non lo so Hai filato Hai filato di brutto Ole Guardalo guardalo Oh cacchio Ho preso l'arma sbagliata Ho preso l'arma sbagliata Ok 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 Oh Oh no 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 dai non dovevo fare una protezione davvero perché ma sai quanto danno pochissimo aiuto quello che vuole buono asilo io lo so usare solo che sono in crisi perché sto bidanno quindi non è che sto usando il vampa quando bido o cacchio dove c'è il nome però vuole potrebbe cambiare da un momento all'altro aiuto che succede ok stiamo giocando con un pro capito una inglese mi ha richiesto un'amicizia vabbè lo farò dopo no secondo me la mia amica che provava la mia amica inglese che provava grazie mille aiuto porco cane ho lanciato pure una cosa per sbaglio porco di quel cane porco di quel cane porco 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 di quel cane porca di quella feffa sono un fregato genio è una faccini us dovremmo fare lo dice sempre mio cugino lo dice sempre lo dice sempre mio cugino questa cosa dovremmo fare un'altra ma cosa che qua quando l'intipo a fare le build è un casino eh si lo so benissimo anche ieri con il mio amico farà fratello l'intipo ho fatto un bel lavoro quel build cioè io 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 facevo sempre testa cioè praticamente og oh 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 stai calmo stai calmo oh 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 stiamo giocando con un pro qua oh 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 madonna ho fatto un jumpscare Madonna, mi ha fatto prendere un mattino di cuore Allora Allora, allora, allora Scusate, ma mia madre stava parlando con me E io ho tenuto per forza La voce Oh, Madonna Aiuto Ma come è che non ti ho detto? Ah, è vero Quanta vita hai? Levi Aiuto! Più 5 di vita! No, non mi vuole Guarda, te l'ho pure detto Non mi fare a piccone Ecco, non mi fa poco Ti avevo detto no Pro, fermo col cecchino, aspetta Ah, ma devo curarmi Ah, ok Curati, curati Curati, intanto mi creo la mia base io La voglio di sciarmi, no tanto Ho già fatto Ok Sopro Sopro Aspetta, no, 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 no Aspetta un attimo, aspetta un attimo Ok, così costruisco pure in ferro Perfetto Guarda quanto prossuono Come costruisco Sto facendo tutto a caso Ti giuro Come ieri Non ero in video ieri Per vari motivi Perché era Tornato alle vacanze Quindi Lo volevo far riposare Ehm Oh mio dio Mi dico Ho fatto I capelli Ehm Oh madonna Non ti hai fatto Comunque ragazzi Io tengo 77 livelli E lui è un profino 110 Cosa Sono arrivato a 109 Ah Bravo Vedranno nel video Che cosa sto facendo Ci sono i rumori Scusate Ragazzi Oddio Te l'ho detto Vabbè Eole Si è buttato il leone Si è buttato Si è buttato il leone Via Si è buttato Si è buttato il leone Guardalo Mi sono 14 di vita 14 di vita Interessante Interessante Non ti regge Non ti regge Vieni qua Ti faccia piccane Sto facendo un po' Dai quanto sono stato Sto Sto Quanta vita Quanta vita hai ora Ti sei curato 14 Non mi faccio Un studio Guardalo Fai un combattimento Epico Ma c'è la pistola Tammurro e Jules Eh no Solar Che è normale Scusate Guarda quel cane Allora io tengo sempre due kill Visto che lui è un pro Mi ha superato Di sicuro Quante kill hai? Ehm 9 Grande Comunque vi ripeto Lui è il fratello Della mia amica 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 tra virgolette Amica tra virgolette Bravo Eh ma anche nemica Ma io ti ho shottato Come? Pure col cecchino Mi hai fatto No basta Ma che pro Non mi sparare Vi resta Ok Scusate Una cosa Cosa Penso che ti ho fatto Già vedere Eh sì Questo ho già visto Ok Possiamo riprendere Sì Vai Vai Madonna Mi sento a 4 E' la miseria Mi ha colpito Non ti devi danno Ok 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 Curati 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 Aiuto Dai ma che sto Io so Mi fa pure un piccone Ma dai Ragazzi scusate Ma è che io sono abituato Adesso a livello Di olio bagnoto Cioè Il mio amico Quindi Ma come ho fatto io O lui? Era ma Cioè E' sempre pro Però tu Modifichi E' più di lui E fai jumpscare Invece Lui Penso che abilitare A salare So benissimo Mio caro Perché gioco da Solo sempre E non posso mettere Ehm Vai madonna Mio caro E' più di l'amila Secondo me Adesso Si incazzano Si incazza Sua madre Dicendo Eh non devi Essarci nei video Aspetta Mi fai un attimo Curare Mi fai un attimo Curare Guardalo che ci provo Gusto No 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 Aspetta Per 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 questa scena Ma Quale è un pro Oh madonna Mi stai inseguendo No? Aiuto Bella mera Che tengo Benissimo Io col bambucillo Sono Monster Sono E non T'ho preso Manto Una volta Yeah Aiuto Porco di quel cane Porca di quella feffa Ok Oh madonna Feffa la cagna Feffa la cagna Io sono Feffa la cagna E con il mio fratellino Timmy Qui c'è la cagna Quella cagna Di mia madre E qui C'è D'Aleana Quattordici vita Da un eternità Cos'hai detto No Dillo Dillo Capito Sono con quattordici vita Da un eternità Perché non Non è Andato mai Vedalo Vorrei lasciare Vorrei lasciare Ma sai con quattordici di vita Sei di vita Tengo Sei di vita Sei Sei di vita Potrei Conarmi male Potrei andare con la pompa Sei Carro Madonna Madonna Eh madonna Come fai Quanti kill hai? Eh Terrifico Dopo facciamo Killato Troll Ci sei? Oi Ok Cresciato Oh ci siete? Si è lasciato il controller Ah ok Io T'ho trollato due volte Tanto per dire Oh 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 Sempre infuriato Oh mio caro Un po' di torno E finisce tutto Oh mio caro Non c'è tro Non c'è adesso Ah Ma non mi spara Ma come? Non ti spara Che troll Comunque Devo Trollato Andai dai Tenevo 20 Mi faccio Per scinde 120 Ehm Comunque dopo Vuoi fare coppia Ah? Dopo Vuoi fare coppia Ehm Si dopo Va bene? Eh Si dopo Perché adesso Mi sto divertendo Troppo in creative Questo lo sarà Faccio Ehm Dove vi spoiler Faccio Una partita Una partita In creativa Con un Bromaster Ah Madonna Mi ha trollato Quanta vita c'hai? 64 scille No 64 scille 20 Ok Maronna Guarda che abbiamo fatto Col buildare Sto arrivando Acqua Questa è il player Stato 12 12 12 di vita Aia Come 12 Eh Già Ok Guardalo Guardalo Niente impossibile No Quando mi die Scusa Moda 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 Ma Che pro Io voglio sapere Quando ho iniziato A giocare A fortnite Sì Non serve No Aspettavo Un poco Di più Eh Aspettavo Un poco Di più Perché Sei Proissimo Eh Non è La Tutti e Quattro A Natale Del 2017 Eh Vedi Era uscito Nel 2017 17 Bella 5 kill Io Siediti Ah Siediti Eh Certo Sei un pro Oh Ragazzi All'inizio Sarò Noioso Questo Video Perché C'era Un colpo Di scena Però Ora Ci stiamo Divertando E anche Sicuramente Voglio Guardarci Stiamo Maschiamo Ittato Oh no Non so Quanta vita Tengo Quanta 18 Di vita 56 Io non parlo Tu 56 Grande Ve l'ho detto Che è un pro issimo Questo Raga Che è un pro Che è un pro Ehm Ma come ho fatto a mancarti Mi sono mostrato Che è un pro Cilla Ma ti faccio E' un pro Trolloso Ehm Due di vita Aiuto Dove di? Vita Ah ok Sei un pro Morto Ok Adesso Mi chiede Comunque Di vita Te lo hai male Aiuto Ah vabbè Era quasi impossibile Sì sì Un po' Sui mio masetto Eri un pro Ma non aiuta Con 99 Di vita Proprio Preciso Ah vada Ok Oh 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 Ah 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 Sono bellissima Io un attimo Un cestino Se voglio fare Un cestino Potremmo Studire un po' Stramappa Che è un po' Un casino Ah Dovremmo terminare La partida Perché questa mappa È più tentativa Ok L'ultima kill Eh Questa Chi la vince Chi la vince Vince tutto Ok Adesso io prendo Un attimo Un cestino Che voglio fare un trick Ma Che mi cazzo C'è Ah Che mi cazzo Un Un Il caccia I caccia No io tengo Il vampo fucile Lo scarro E il fucile pesante Di preciso È pesante Eh 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 È veramente Piacere Piacere Eh Eh Mi ha sfiorato No Eh Mi ha sfiorato Non mi ha neanche killato Eh Oddio No Caio 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 Sao Senora Sabe ragazzi sono andorando tantissimo questo video ma non è un problema mio che ci siamo divertendo aiuto no 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 non vale questa non vale facciamo l'ultimissimo perché mi hai trollato con le trappole noi dobbiamo farla con le armi muori muori non ti ho colpito cosa hai detto non ti ho colpito aiuto ora sei vero ma porco di quel cane di feffa porco di quel cane di feffa e vado va bene sette chili io io ho dicendo va bene e ne facciamo un altro va bene ne facciamo un altro facciamo un box metto batorio e all vuoi fare box metto seguimi box fight no io so farci solo con la sniper non scoop mappe con allora metto che non è già signor non scopo mappe io metto io metto io tranquillo ho fatto una sniper non scopo mappe ti va bene ragazzi un po di sniper poi basta perché tra poco arriva il mio amico da mezz'ora facciamo coppie o club no no facciamo sniper eh sì dove facciamo coppie o club no dopo dopo perché mo dovevo finire il video facciamo un po di sniper nel video ti va bene e poi andiamo a fare coppie senza video eh ok non è сторону ho messo già preparato eh dovresti vedere che cosa te la eAhahahaha AHHAHAHAHA Aha ahahaha no ma non ho già sta voce diabolica spavento mi a madre ve lo dico Gta5 raga Ma salve Ti ho sorprendito Ti è scurato Eh ma salve ti ho fatto già due kill Tu? Guarda Non so bene No Mi ho preso Ok Allora Ok Col cettino che c'è più sotto Col cettino che c'è più sotto Eh io l'ho Ho preso il caccio Il bolt d'action Il silenziato E la desert E il rapino Madonna Quanto kill hai? Due Tre Tre Ragazzi Chi arriva per primo a 10 kill vince tutto e poi terminiamo il video Perché lo abbiamo fatto di quanto? Mezz'ora? Non so Però veramente lo pubblico il video eh Perché tengo già un canale su Oh no Tengo anche uno su play Oh madonna Oh madonna Di 6 metri Ma dai Ma dai Se sentite questo rumore perché sta montando una cosetta Ma perché Nicola urla quando ha giocato? Non lo so perché dice che Eh non è giusto E poi invece è giustizia Tipo eh questo lato è mio eh Non puoi barare Camperando sulla porta eh Non puoi usare la desert Non puoi usare il cecchino a ripetizione Ma dai Dai Nicola Che poteva essere secondo te? Eh lo so Mio fratello Mio fratello barra amico sicuramente no Perché Sì ragazzi Col barra che Ah porco cane Sì perché se non stia stai chiedendo Sono Riccardo Rinaldi 5 kill Ah? 5 kill 3 kill Madonna Per poco eh Eh Pottissimo E basta E la ma Miserio Ando a sopra Sbagliare Uh dai Ciao M Ho fatto il giro M cosa? Ah M cosa? Eh 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 Vale Ma salve Eh Quante kill hai? 4 2 5 Volevo fare una pazzia Se mi entrava Abbandonavo E se seggiavo Oh 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 Matrimonio Oh 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 Con la console Il Bar Porca Porchetta Dove stai? Ciao 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 Madonna Ti è sfirata Eh No Ora mi è fichitato Anzi mi è proprio chillato 4 kill tu 7 Ok Madonna ti è sfirata No Mi ha preso pure No dai non ci credo No Aspetta Aspetta Aspettate ragazzi Questo Ehm Vabbè ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto Lasciatevi un mi piace Iscrivetevi Attivate la campbellina Noi ci vediamo nel prossimo video Ciao